musica cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft andiamo a costruire un vulcano un vulcano si è bello un vulcano facciamo un vulcano vai vai facciamo un bellissimo vulcano di che cosa di che cosa? un po' di lana ossidina no sidiana e carbone vai sidiana e carbone si perchè il carbone no facciamo un po' di dirt mettici quello che vuoi vai facciamo un pochino la base facciamo dove deve essere un po' tondino la colata lavica esatto una cosa di basalto proprio peccato ossidiana non è basalto ho capito fai finta no immaginatelo comunque questa qua è team il matto dove dobbiamo costruire una cosa che ci dicono loro quindi ovviamente facendo la cosa nel più brutta possibile nel pochissimo tempo che abbiamo a disposizione è bella voglia di metterci le testifiche sotto che prendono fuoco ok vai su vai su cerchiamo di un po' eccessivamente un minimo intanto facciamo la base abbiamo 6 minuti ce la possiamo ancora fare qualcosa di decente vai 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 tira via sto coso vai via via l'angoscia mi fai si ho capito magari possiamo poi trovare per una volta di perdere il tempo e fare una location più bella perchè non lo so mai io lascio sempre però prima pensi la location vai 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 tu guardi la location tu costruisci e che vai 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 provare a cambiare qualche location ma sbrigati non è che posso fare un vulcano no devi farlo tu devo farlo io devi farlo il leader ok options plot weather plot time plot biome cosa di nether mese ma che nether il mese il mese il mese sa più bello sarà il vulcano il mese ma tu che ti sta cambiato nulla plot floor drag e block here to use the floor che cosa usiamo come lo so la dirt l'erba 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 lo metti sai che la gente ci coltiva sulle pendicite vulcani perchè sono fermi se metto questo tipo così come viene troppo scuro secondo te come ti fai troppo cattivo che cosa di nether dici che ci sta bene cosa consigli nether mi consigli ci provo allora c'è un nether è una cosa proprio sprecata così non lo facciamo mai facciamolo ok la com'è osceno schifo che brutto mamma mia che cosa metto allora te l'ho detto metti la pianura la gente ci vive nelle pendicite vulcani da sempre nelle pendicite vulcani ma si ci vive una pianura normale la dirt no la grass ma non la grass e mettiamo l'erba possibile è da due ore che lo sto dicendo e mettiamo l'erbetta perchè vi c'erano i vulcani che schifo che schifo di bioma ho messo basta per un detto tempo a fare queste cose veramente mettiamo eh nell'acqua e se facciamo se un vulcano nell'acqua gatto basta che tu ti sbrighi un vulcano acquatico si dai una buona idea mettiamolo nell'acqua ma signore mettiamolo nell'acqua si può fare nell'acqua no magari non si può cioè voi capite che io ci devo vivere ecco dai è un vulcano nell'acqua è bellissimo così vediamo meglio i buchi guarda lì è tutto bucato lo so sto salendo io sto salendo a caso stai salendo solo quattro minuti tu prendi tempo a mettere l'acqua eh visto i vulcani li fanno col compasso scusami tanto mamma mia ok ma non possiamo mettere la cella dei buchi tappa i buchi su tu vai tappare i buchi io finisco la struttura portante qui ok sto tappando i buchi perfetto stai facendo un bel un bel cono vulcanico si avevate ci butto pure te dentro ma non ci butto nel cono chi l'ha detto sono solo un gelato non lo so guarda il passaggio poi decido guarda te bene spaw next ma cosa mi interessa che mob devo metterci testivi che bruciano si pensavo di farlo vero ci metterò i testivi che bruciano la smetti di dirmi che devo nominare i mob non mi interessa ma quanti buchi hai fatto ma se potremmo tappare i buchi che altro oh finalmente ci siamo dai ok perfetto ci sei si perfetto benissimo lo stai tappando i buchi lo stai tappando tutti i buchi ma alla fine quanto vuoi che ce la faremo non ce la faremo mai se no bisogna mettere la lava da breve eh si ci sono ancora dei buchi poi di cobblestone ci vuole si vai buttaci la cobblestone alcuni buchi ci metterò la cobblestone perchè la cobblestone non lo so non lo so i vulcani sono tutti compatti così beh non lo so è tutto formato dalla lava chiediamene dove sa e magari quella che sia soddificata per la svelta è diversa può darsi infatti volevo mettere dice del carbone no non serve da quando la lava fa per il carbone non lo so grafite grafite vabbè ancora buchi ma non mettere dei buchi in alto però deve essere tutto che si vada a degradare non è un muro sei degradante sono degradante io ma senti che parla ok allora qui sopra invece ci buttiamo il vulcano perfetto la lava cioè che cosa che diamine di cosa hai fatto qui sarà il che cosa hai coperto bene allora cosa mi parte minecraft lava lava dove la lava 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 poi ci mettevo l'acqua ok lava vulcano di eh non è detto che di che cosa doveva essere il vulcano è stato un vulcano d'acqua ovviamente che scenda non ha neanche senso che non abbia un po' di 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 uscita perfetto vai sbrigati che stai facendo vai lasciami lavorare delle isolette metti la lava 2 minuti rimasti 2 minuti rimasti non ha senso che non ci si che il vulcano si veda sotto deve essere tutto tappato deve essere vai sbrigati lascia tutto mamma mia ok sta scendendo l'acqua la lava qui sta scendendo ci siamo qua si dai metti la lava fai scendendo la lava sta scendendo che bella non è che deve prendere poco che bella la lava che sta scendendo sarebbe bello farlo tipo aspetta con le particelle esplosive c'è la cosa delle particelle particelle qualcosa tipo di lava particelle di lava sta scendendo le particelle di lava in giro come glielo spiego particelle select particle effect glielo ho detto possibile dov'è che sbaglio gli ho detto di mettere se poi non le ha messe non le ha messe sbrigati manca ancora di fare giro 1 minuto e 11 secondi 11 secondi sto schifo è ancora mezzo creato mezzo rotto bene ci siamo? il vulcano più brutto della storia no dai ho visto guarda c'è anche l'isoletta dei sopravvissutili c'è anche no ok meno male che sono riparati dal lato opposto a quello dove è caduta la lava ovviamente eh meno male ok io direi e se facessi tipo una cosa un po' tipo esplosiva quindi qua ci mettessi che diavolo è quello schifo un obelisco in lavato place no ma metti la lava no ho buttato via la stella ma non voglio mettere il drip lava eh anche anche ecco eh anche il drip lava però anche la lava normale perfetto aspetta secondi dai la sto scempio no lascia sto scempio ok aspetta si la lava è venuta storta aspetta no devo prendere questo devo mettere le particelle la lava ok ha messo la lava è diventato lava ora ho capito che funziona ok ho messo le lava qua metti la lava tutto intorno ha messo un po' di lava quanta lava ci deve avere sto mettendo lava intorno sto mettendo le particelline di lava tutto intorno non le particelliamo però ok perfetto guarda lì che 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 si ma manca un po' di cobblestone ah è finita è finita è finita bellissimo bellissimo ok iniziamo a vedere gli altri questa è uno zigurat allora mamma mia è preciso come vulcano eh buono ok buono questo si sta diciamo che hai le aperture comunque la mia idea di ossidiana e lava c'è questo ha messo la base di lava volendo ha fatto un vulcano ha fatto un vulcano di lana di lana che aveva la mia idea all'inizio diamogli me è giusto la gente è sempre che oh guarda lì mi sta esplodendo sto vulcano carino carino in serio forse non mi dispiace diamogli diamogli un epic vai epic sono gentile si comunque tutti voi avete esagerato con la lava cioè noi compresi anche tu te l'ho detto volevo metterla meno ma poi voglio fare le particelle un po' se ma che razza di vulcano va bene good good questo 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 carino carino si va bene su a su perché piccinino piccinino dai dai mezzo all'acqua mi assomiglia a qualcun altro qua cos'è non è il nostro no uno scempio uno scempio si capisce cos'è tutto strano poverino anche tu ti ho messo il carbone come volevi fare tu hai visto non ce la faccio dare voti cattivi il nostro leggendario il nostro è bellissimo eh che bello il nostro è leggendario il nostro è bello con l'isoletta dei cretini lì e la cosa più bella soltanto era dei famosi adesso la nostra è un'altra specie questo sta andando a fuoco però non c'è lava mi dispiace non c'è lava almeno la lava la volevo non voglio essere cattiva almeno la lava la volevo mettere noi siamo arrivati quinti come sono arrivati quinti e questo cosa è arrivato per primo eh mamma mia e lui l'ha comportato un po' meglio effettivamente si non era brutto non era brutto eh vabbè noi siamo affinizzati che figli eh accidenti dovevamo vincere per quello effettivamente siamo arrivati quinti siamo contenti comunque tanto uno di quelle no non è vero partite in cui non è detto che sia giusto né che arriva primo che si meriti il primo posto né che arriva ultimo che si meriti l'ultimo ma dando la possibilità alle persone che stanno giocando in quel momento di votare gli altri è ovvio che nessuno tenderà a dare leggendari a tutti gli altri anche se in realtà gli piacciono tantissimo ma prima di finire vogliamo assolutamente aprire un mystery volte per la prima volta che non abbiamo bene però possiamo convertire duemila pixel credit in un mystery box da tre stelle quindi proviamo vai ok ce l'ha uno lo voglio io lo apro o non lo voglio lo voglio ok ce l'ha uno chi lo apre lo apre giù vai 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 vediamo chi lo apre chi lo apre lo apre lo apre lo oh guarda lì attenzione è trovato uno più più guarda che bella animazione che hai trovato che ne so chi l'ha trovato un epic spider pet bello che carino due le apri no veramente hai trovato un epic non so non è che proprio sia contentissimo che è dato a tutti lo spider però vabbè complimenti hai trovato una cosa epica fin da subito dov'è dov'è lo spider non importa ci penso io ce l'ho anch'io il mystery box box vai anch'io anch'io qualcosa di epico come chiedi anche a me anche a me qualcosa di epico anche io anche io epico epico sì sì tu epico io epico eh 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 se eh hai trovato un housing ho trovato ho trovato del dei pezzettini di eh eh come si chiama di ferrovia da mettere nella mia casa bene così poi quando devo andare in bagno ci vado con il trenino invece che andaccio a piedi queste sì che so comodità ho un ragnetto ah che bello noi voglio una cosa di meglio ne ha più un altro no uno solo al giorno vabbè non importa per il prossimo spacchettamento aspettiamo la prossima puntata se avete più puntate di team b battle o comunque qual è il vostro gioco preferito degli arcade games di epixel grazie a tutti per essere stati con noi eeeh alla prossima maledetta un epico subito ah ciao con get a love ciao ciao ciao